Inizieranno la prossima settimana i lavori di ripascimento del lungomare San Marco ad Agropoli. Gli interventi riguarderanno il secondo lotto per la protezione del litorale agropolese dall'erosione costiera e dei rischi ad essa connessi. Le operazioni di ripascimento consisteranno nel prelevare le sabbie del mare di Agropoli, oltre la barriera sommersa già presente nelle acque antistanti lungomare San Marco, per riversarle poi sull'arenile. I lavori di ripascimento iniziarono già lo scorso anno, ma con l'arrivo della stagione estiva furono interrotti. Il tratto di spiaggia interessato dai lavori di ripascimento sarà dal Lido Tre Conchiglie fino alla fine del Lido Raggio Verde. Per questi interventi è stata inoltre predisposta un'ordinanza che viola l'accesso alla spiaggia a causa della presenza di mezzi cingolati ed autocarri fino al prossimo primo giugno.